Brando Efrician ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con Raffaella Scuotto e la giovane coppia è molto innamorata. Parlando dell'esperienza nel dating show di Canale 5, il tronista non ha potuto non commentare ciò che è accaduto a Ida Platano, divisa tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, e poi delusa da entrambi al punto di lasciare senza neppure arrivare alla scelta finale. Dopo un percorso intenso nello studio di Uomini e Donne, Brando Efrician ha deciso di scegliere Raffaella Scuotto e i due formano una giovane coppia davvero innamorata. I due protagonisti del trono classico stanno vivendo la relazione a distanza, non potendo ancora pensare alla convivenza dal momento che la loro love story è appena nata e sfruttano ogni momento per incontrarsi e condividere tante belle esperienze insieme tra viaggi, cene e momenti di quotidianità. Mentre Brando Efrician ha trovato l'amore con Raffaella Scuotto e i due sono uniti più che mai, il percorso a Uomini e Donne ha avuto un epilogo amaro per Ida Platano. La Bresciana se ne è andata con un pugno di mosche in mano dopo le segnalazioni su Mario Cusitore, sebbene l'ex corteggiatore continui a negare e abbia rivelato di aver provato a incontrare ancora Ida. Mentre secondo Raffaella, la scelta di Ida sarebbe ricaduta senza dubbio su Mario e per questo ha apprezzato che l'atronista abbia interrotto il percorso nonostante l'attrazione che provava evidentemente per il partenopeo pur di tutelarsi. Brando, invece, ha ammesso. L'ho risentita, Ida. Mi ha fatto anche gli auguri per il compleanno. Io non avevo una preferenza, né per Mario, né per Pierpaolo. Senza nulla togliere ad entrambi, semplicemente non rispecchiavano la donna che è Ida. Non li conosco. Per quello che ho vissuto non mi sarei comportato così. Parlo di uno più dell'altro. Insomma, Brando ha lanciato una bella frecciatina ai danni di Cusitore che, Ro, nonostante non abbia avuto un comportamento sincero durante il suo percorso a uomini e donne, gode dell'appoggio di molti fan che sperano che prima o poi si chiarisca con Ida. C'è anche chi, invece, pensa che il partenopeo potrebbe tornare nel parterre del trono over a settembre, pronto a fare strage di cuori e a quel punto tutti pregano che ci sarà anche Armando incarnato, in quel caso, l'unico che potrebbe tenergli facilmente testa. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con le ultime novità su Flash Trendita.